Gentili telespettatori ben ritrovati, oggi porteremo nelle vostre case la bellezza di una terra unica e straordinaria, decretata nel 2019 Patrimonio Unesco dell'Umanità. Detentrice di storia, cultura e fede, ospite con noi negli studi di Bassano il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencim, benvenuto sindaco. Grazie Ida e un saluto a tutti i telespettatori. Lei è stato eletto sindaco nel 2019, l'emozione di essere eletto sindaco di una cittadina, qual è stata? Beh è stata un'emozione davvero molto forte, sicuramente c'è stato subito un grosso carico anche di responsabilità perché io sono stato eletto a 33 anni, uno dei sindaci più giovani della provincia, però l'emozione è stata fortissima perché insomma un ruolo di questo tipo con una responsabilità così importante nel comune che di fatto mi ha visto crescere, fare gli studi, vivere quotidianamente è sicuramente una bella soddisfazione, un bell'impegno e molto anche gratificante sotto certi punti di vista. Quali sono i temi e le problematiche che ha dovuto affrontare da subito? Beh Farra di Soligo è un comune, io lo dico sempre, è molto bello, siamo diventati situnesco nel 2019, però devo dire che Farra di Soligo ha avuto una criticità che per moltissimi anni si è trascinata quasi una causa, potremmo dire ultraventennale, è una causa particolare nel senso che avevamo degli espropri delle aree industriali, quindi c'erano industriali e espropriati da una parte e il comune in mezzo, quindi ci siamo trovati a affrontare tutta una serie di debiti per i quali il comune era stato costretto a pagare con rischio del commissariamento e rischi ben grossi per le casse comunali. Fortunatamente grazie a un grosso lavoro che abbiamo fatto come nuova amministrazione siamo riusciti in pochissimo tempo a sbloccare questa situazione che ci aveva messo in grossa difficoltà anche negli anni precedenti e a fare di fatto ripartire il comune con una grande energia, uno spirito completamente diverso e una voglia anche di riscatto proprio per voler fare qualcosa di nuovo e soprattutto per poter ripartire con quelle che sono le tantissime attività che abbiamo fatto in questi anni. Ma torniamo al presente, abbiamo detto Farra di Soligo, sito Unesco, noi vediamo subito un contributo, siamo stati là con le telecamere di itinerari turistici, lo vediamo prima. il mondo antico è pieno di misteri e di meraviglie che attendono di essere esplorati Farra di Soligo è una terra straordinaria, decretata nel 2019 patrimonio Unesco dell'umanità ma detentrice anche di storia, cultura e segno. È il 2019 e Mattia Perencin viene eletto sindaco di Farra di Soligo, passano solamente due mesi e questa straordinaria terra viene decretata patrimonio Unesco dell'umanità, ne parliamo con lui. Buongiorno sindaco. Benvenuto a Farra di Soligo. Grazie. Sindaco, come ha vissuto questa proclamazione? Beh, è stata un'emozione fortissima, un'emozione bellissima devo dire, un riconoscimento importante per un territorio che ha saputo dare molto e sta dando molto, un riconoscimento che ci porta a livello mondiale ad essere conosciuti in tutto il mondo proprio per la bellezza del nostro paesaggio, delle nostre chiese, delle nostre colline, ma di un territorio che ha saputo meravigliare anche i commissari che hanno deciso appunto di darci questo importante riconoscimento. Ecco lo sindaco, cosa vuol dire essere sito Unesco? Beh, vedere queste immagini mi emoziona sempre, questo territorio riesce ad ogni ora, in ogni minuto, in ogni stagione, in ogni momento e nel corso dell'anno ad emozionare perché ha di quegli scorci, di quei colori, di quei paesaggi che veramente lasciano davvero senza fiato anche chi questo territorio lo abita e lo vive costantemente. Devo dire che diventare sito Unesco forse inizialmente non avevamo ben chiaro di cosa fosse e di cosa anche significasse. È stato per noi ed è per noi un grandissimo riconoscimento e un forte volano anche per l'economia, ma soprattutto il fatto di poter portare qui, in questo territorio, tantissimi turisti. Noi con l'inaugurazione del cammino dell'Unesco, quindi del collegiano Valdobiadene, perché poi questo territorio è un territorio agricolo, vitivinicolo, le famose rive eroiche, abbiamo portato e stiamo portando già oltre 30 mila persone a fare questo tipo di cammino che attraversa Farra di Soligo per 14 chilometri circa. Abbiamo inaugurato il Ponte dell'Umanità, così abbiamo voluto chiamarlo un ponte che collega le due sponde di due comuni e quindi il quartiere del Piave, quindi il ridosso del Piave, con la vallata, la parte del Vittoriese. Quindi un collegamento poi che è stato fondamentale per creare di fatto questo percorso di 50 chilometri che si chiama e che è stato chiamato il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobiadene. Ma vediamo ancora qualche immagine di questo meraviglioso territorio. Vediamo il nostro secondo contributo. Si è aperta, Sindaco, questa meravigliosa giornata di sole. Noi stiamo passeggiando nelle colline e tra i vigneti del Conegliano Valdobiadene di Ocigi, che è un Prosecco. Sì, qui noi siamo nella patria del Conegliano Valdobiadene. Queste sono conosciute anche come le rive eroiche. Qui c'è una lavorazione tutta a mano da parte dei nostri agricoltori che proprio qui lavorano e coltivano questi vitigni. proprio con una lavorazione anche molto difficile. Pensiamo che qui è tutta a mano, non c'è meccanizzazione. Quindi un lavoro veramente dove ci si spacca la schiena. Anche perché la pendenza è molto alta. La pendenza è molto importante. Infatti queste sono conosciute anche come le rive eroiche. Perché chi le lavora sono veramente eroici, quindi veri eroi. Sindaco, abbiamo anche un cammino dedicato all'UNESCO. Sì, il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobiadene attraversa proprio le colline di Farra di Soligo ed è un percorso bellissimo perché in tutto il periodo dell'anno ci sono degli scorci stupendi, quindi veramente bello. Eccolo là, immagini meravigliose. Complimenti per la sua bellissima terra. Ma lungo questo cammino, cosa è, sindaco, che troviamo? Non solo territorio. Abbiamo parlato di cultura, storia, fede. Sì, troviamo anche delle chiese, dei santuari, posti proprio lungo tutto il percorso. Quanti ne avete? Beh, noi ne abbiamo oltre una ventina nel paese. Però per la parte che attraversa il comune di Farra di Soligo sono soprattutto San Vigilio, che poi è anche un punto di tappa perché ci sono quattro tappe lungo il percorso. abbiamo San Lorenzo, la chiesa di San Lorenzo, e poi la chiesa di Collagù. Quindi, insomma, tre bellissimi siti, tre bellissime chiese e santuari. Anche l'enogastronomia è molto importante nel suo territorio. Avete molte, si può dire, trattorie, osterie tipiche del posto, agriturismo. Non manca niente. Avete il piatto del cammino. Un ristoratore ha fatto proprio il piatto del cammino, è vero, sindaco? Sì, proprio nella seconda tappa del cammino c'è la possibilità appunto di degustare anche questo piatto del cammino, ma soprattutto di potersi fermare anche per la notte, di potersi ristorare, di poter mangiare, di poter bere un buon calice di DOCG. E quindi, insomma, c'è molto da vedere, ma c'è anche da mangiare. Molte opere sono state fatte nel suo comune. Quali sono gli interventi realizzati in questi anni, sindaco? Beh, devo dire che sono molti gli interventi, come dicevo prima, che abbiamo portato avanti in questi anni. Ho fatto proprio i conti che abbiamo fatto interventi per oltre 9 milioni di euro. Quindi opere necessarie per la comunità, interventi importanti che abbiamo deciso appunto di portare avanti. mi vengono in mente lavori per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i marciapiedi, sono diversi gli interventi, con contributi anche regionali che siamo riusciti ad ottenere grazie a una buona progettazione, ma anche lavori con il miglioramento della rete idropotabile, fognature. L'illuminazione pubblica, io ho fatto un investimento di circa 700 mila euro in questi 5 anni per riamodernare buona parte dell'illuminazione pubblica, perché sappiamo quelli che sono i costi dell'energia e quindi efficientare significa anche fare interventi di questo tipo e quindi abbiamo cambiato tutta la buona parte di l'illuminazione pubblica con risparmio energetico, quindi a LED. È stato un lavoro importante, ma doveroso, visto il problema che c'era. Sì, un lavoro importante e doveroso. È chiaro che spesso e volentieri noi ci troviamo a lavorare in emergenza, perché anche l'aumento delle bollette non è stato sicuramente facile ovviamente per le famiglie, per le imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni e quindi di conseguenza si va a fare anche interventi di efficientamento energetico, così come abbiamo fatto anche molti interventi sull'edilizia scolastica, che è sempre stata ed è una priorità delle amministrazioni comunali, dal miglioramento sismico all'efficientamento energetico con appunto i cappotti, i serramenti, ma anche tutto il riamodernamento della parte dell'illuminazione. Quindi interventi sicuramente importanti, tanto attesi in questi anni, proprio perché ci trovavamo ad affrontare una situazione drammatica dovuta appunto a quello che dicevo inizialmente, però devo dire che sono molti i cantieri che abbiamo in programma, ma molte anche opere che ormai abbiamo già inaugurato. Ne abbiamo inaugurato una poco tempo fa importante. Sì, devo dire che è stata inaugurata, è stata posta la prima pietra della nuova scuola primaria di Colsa Martino. Anche questa era un'opera attesa dalla popolazione da ormai moltissimi anni. Teniamo presente che i ragazzi erano stati portati all'interno dei container, perché la precedente, la vecchia scuola degli anni 50, ormai non era più idonea e segnava veramente i segni del tempo di fatto. Però devo dire che grazie a un grosso lavoro e nonostante le mille difficoltà abbiamo sfruttato fortunatamente i fondi del PNRR e ottenendo un contributo di 3 milioni e 100 con una parte di conto del GSE e una parte di risorse comunali siamo finalmente, e dico finalmente perché è una grandissima soddisfazione riusciti nei giorni scorsi proprio a fare la posa della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sarà inaugurato nella primavera del 2025. Questo era un atto dovuto nei confronti soprattutto dei bambini perché inaugurare una scuola non succede tutti i giorni realizzare una scuola nuova non succede tutti i giorni e avere una scuola nuova è sicuramente un sintomo ma un sinonimo anche di voglia di dare un futuro alle nuove generazioni e la voglia di investire proprio su quelli che saranno poi i nuovi amministratori i nuovi professionisti i nuovi cittadini del domani. E' proprio questo io le volevo chiedere ma come sono i suoi giovani? Devo dire che abbiamo dei giovani molto dinamici noi ogni anno li premiamo anche questi giovani perché mettiamo a disposizione delle borse di studio per questi talenti dai ragazzi che si laureano ma anche quelli che finiscono i percorsi scolastici con delle medie importanti ma devo dire che sono veramente dei ragazzi che ci danno delle grosse soddisfazioni nei vari campi anche in quello sportivo ti dirò la verità abbiamo istituito anche la giornata e il festival dello sport quindi andiamo a premiare proprio questi talenti questi ragazzi che nelle varie discipline portano grande risultato non solo per loro ma anche per il nostro territorio stesso Sildo Co in questa puntata abbiamo parlato di territorio abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di lavori effettuati ma nella prossima puntata parleremo della sua comunità parleremo di lavori da fare io questa puntata però vorrei chiuderla così invitiamo il nostro pubblico a casa lo faccia a lei l'invito a visitare la sua meravigliosa terra Sito UNESCO beh io ovviamente aspetto tutta la gente tutti i telespettatori a venire a veramente a visitare Farra di Soligo Farra di Soligo è un territorio molto bello come dicevo prima sia sotto il punto di vista del paesaggio ma anche della tradizione della cultura della storia abbiamo moltissime bellezze pensate a lettori di Credazzo che è l'unico complesso fortificato rimasto e poi c'è la possibilità di farsi una buona camminata visto che abbiamo parlato anche di cammino anche perché si apre la bella stagione si apre la bella stagione e quindi li aspetto veramente perché è a portata di tutti e poi noi abbiamo la zona collinare ma abbiamo anche la zona di pianura quindi c'è la possibilità di fare sia una cosa che l'altra grazie sindaco io naturalmente l'aspetto la settimana prossima per portare nelle case dei nostri telespettatori tante ancora belle immagini di Farra di Soligo e grazie anche a voi gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia io vi do appuntamento la prossima settimana con l'angolo di Ida buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti